Ciao a tutti ben ritrovati nell'allevamento di Dago Capogrosso Sarezzano andiamo a scoprire di cosa parleremo oggi Buongiorno amici e ben ritrovati con il pastore transumante e la CIA di Alessandra Ciao Dario Buongiorno Genne In allevamento non troviamo solamente pastore maromani ambruzzesi ma troviamo altre razze di cani da lavoro Oggi parliamo del lagotto romagnolo l'unica razza certificata in Italia per la ricerca dei tartufi Allora caratteristiche della razza e impiego sul lavoro ce le spiega Dario Grazie mille Genne Finalmente è arrivato il momento di parlare di lagotti di ragotti romagnoli Lagotti romagnoli è un'altra razza che in questo territorio appunto del Piemonte provincia di Alessandria con gli tortonesi è particolarmente evocata alla ricerca del tartufo Volendo andare a essere ovviamente schietti e sinceri probabilmente è l'unica razza a livello mondiale che aiuta appunto ed ausilio all'uomo per trarre anche un reddito e il reddito viene tratto praticamente dalla ricerca del prezioso stubero che si va appunto in questi territori ricchi di specie appunto di artufigili e commestibili ma per la maggiore insomma tartufo bianco e scorso onestivo Il lagotti è una razza molto particolare una razza riconosciuta a livello diciamo internazionale da all'incirco un decennio ma che grazie all'opera dei tanti allevatori appunto italiani e del club di razza che in qualche maniera tutela ha avuto un miglioramento veramente enorme sotto tantissimi punti di vista questo attaccamento appunto al lavoro e quindi al compiacere il padrone attraverso il gioco ne fa sì che praticamente sia assolutamente una razza che a livello internazionale è cercata non solo appunto come cane lavoro e quindi da ricerca di attufo ma anche come cane da compagnia infatti il lagotto fondamentalmente sta avendo, sta attraversando una fase veramente d'oro proprio perché è un cane rustico quindi è un cane vero ma comunque con una spiccata intelligenza e una spiccata dose di come dire attaccamento all'uomo che ne fa un ottimo ed eccezionale cane da famiglia quindi i nostri cani vengono cercati in tutto il mondo vengono esportati in tutto il mondo dalla Groenlandia, Sudafrica recentemente come in Giappone e in Cina proprio sia come dire sia per coloro appunto che vogliono come cane da compagnia sia per coloro che vogliono cimentarsi nella ricerca di attufo che alla fine è un fungo ipogeo che anche se magari non commestibile può essere trovato in altre parti del mondo ed Europa quindi a te la parola Ecco, allora raccontiamo in sintesi chiaramente quali sono le tecniche per addestrare o meglio, so che sono super segreti però qual è l'attitudine principale che distingue questa razza da ricerca? No, non ci sono veri segreti il segreto sta appunto in coloro che si sono adoperati negli anni quindi prima di me che insomma allevo questi cani da sette anni, otto anni quindi volendo non da tantissimo ma si sono adoperati nel ricostruire la storia di questa razza che originariamente appunto veniva utilizzata per il riporto in acqua nelle valli di Comacchio e che poi ovviamente storicamente in un processo abbastanza lungo è stata alleata dai cercatori dei trafolai di queste zone, comunque del nord Italia quindi le caratteristiche principali sono appunto come dicevo l'attaccamento al padrone l'attaccamento al padrone è un cane a cui piace veramente collaborare è un cane molto vitale è un cane sano è un cane che fondamentalmente ha nel fondo e quindi comunque nella fisicità nel senso nella sua dinamicità un'altra sua forte caratteristica è un cane instancabile nel bosco in pratica il cane ha proprio piacere di vivere il bosco di sentire gli odori della natura quindi è un cane con cui veramente si riesce a riabbracciare il piacere di passeggiare nel bosco quindi aiuta a prendere questa cucciola che fate e quindi è veramente è un successo italiano un'eccellenza italiana a tutto tondo da tutto il mondo ci cercano questi cani ok nel nostro rilevamento abbiamo ovviamente delle eccellenze particolari quindi questo fa sì che veniamo riconosciuti abbastanza come leader nel settore nel senso che i nostri cani grazie devo dire all'aiuto di altri allevatori i quali appunto posso citare il mio mentore Lorenzo Ciacci Marchigiano mi ha aiutato appunto a selezionare questi cani con una forte attitudine ricerca infatti il cane per diventare anche campione italiano di bellezza da un paio di anni ha come obbligo l'essere cercatore di tartufo quindi vengono fatte delle prove di ricerca e poi ovviamente ci sono delle patologie che questi cagnolini anche se sembrano così sani e forti potrebbero presentare nel proprio DNA e che vengono testate e quindi che geneticamente i nostri cani sono sicuramente puliti e puri così come il cliente si augurerebbe possano essere per crescere sani e forti e per essere compagni di vita compagni di gioco compagni di lavoro e quindi un'altra eccellenza del mondo fondamentalmente legata all'agricoltura perché c'è anche la tartuficoltura che è un'attività prettamente agricola e quindi noi coerenti con il cane torna all'ovine quindi a riscoprire i cani autentici di lavoro vi presentiamo questo cane che fondamentalmente è un'altra eccellenza di cani ausiliari per l'uomo italiana grazie Dario e salutandoci quanto tempo hanno questi cucciolotti? meno di due mesi un mese e mezzo un mese e mezzo di vita allora andiamo perché sono vivacissimi amici grazie di averci seguito e aspettiamo i vostri commenti e suggerimenti anche per le prossime puntate sono cacao meraviglioso Kennel I wouldn't mind if you and I would fly away together fly away forever honey I wouldn't mind if you and I would fly away together fly away let's hold hands fly away and skip to the beat of our hearts as they chatter as a pitter pitter pattern didn't you know that I could be a wingman flying around as we soar over